Fazio Cristallo e Bulevardi non faranno parte della spedizione del Monopoli alla nuova Reda Arena di Francavilla Fontana, dove la formazione di Roberto Taurino si gioca una partita fondamentale per la corsa alla permanenza. Il Monopoli precede di un solo punto la Virtus Francavilla, che in occasione dell'inaugurazione della nuova tribuna vorrà conquistare l'intera posta in palio e operare il sorpasso in classifica. Per quanto riguarda la formazione bianco-verde, Taurino potrebbe anche non ricorrere al minutaggio schierando 11 giocatori esperti, anche se appare quasi scontata la presenza di gelmi tra i pali e di uno tra Berman ed Angileri nel ruolo di braccetto di destra nella difesa. La retroguardia sarà completata da Bizzotto al centro e da Ferrini sul centro-sinistra, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Viteritti da una parte e Barlocco dall'altra. A centro-campo ballottaggio tra Mlidi e Iaccarino per affiancare Carlo Derisio, mentre in attacco Borello, dopo l'incolore prestazione di domenica scorsa, potrebbe lasciar spazio a De Paoli, con Tommasini e Grandolfo a completare la coppia offensiva.